E' uno spettro da 15 milioni di euro quello che aleggia sulla testa di AgroInvest del comune di Scafati dopo che la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha depositato in cancelleria l'ordenanza di rigetto la prima di 60 relativa al ricorso presentato da AgroInvest, società di trasformazione urbana con sede ad Angri rispetto alla vicenda delle procedure di sproprio dei terreni destinati ad accogliere l'area PIP di Scafati si attendono ora quelli che prevedibilmente saranno i provvedimenti analoghi con i quali verranno definiti gli altri 60 procedimenti di questo filone ad aprire lo spiraglio positivo in favore degli espropriati e la vittoria conseguita dallo studio legale Santa Croce di Cava dei Terreni che difende altri 19 proprietari dei terreni su cui verte la vicenda AgroInvest era stata incaricata nel 2004 dal comune di Scafati di provvedere alla procedura di sproprio delle aree ricadente nel PIP oltre che all'assegnazione dei lotti a seguito dell'offerta dell'indenità provvisoria di 37,50 euro al metto quadro ritenuta irrisoria dagli espropriati è iniziato un contenzioso prima innanzi alla Corte d'Appello di Salerno affinché quest'ultima accertasse la giusta indennità da riconoscere tali processi si sono tutti conclusi con sentenze favorevoli agli espropriati sentenze che condannavano AgroInvest ed il comune di Scafati in solido al pagamento della giusta indennità con una media rideterminata in 73 euro al metro quadro inoltre il comune di Scafati ed AgroInvest sono state condannate dalla Corte d'Assise di Salerno al pagamento delle spese processuali AgroInvest alla soluzione bonaria ha preferito impugnare i provvedimenti della Corte salernitana arrivando in Cassazione, Suprema Corte che ha però rigettato le sue istanze va detto che nel frattempo AgroInvest non ha nemmeno provveduto al deposito delle indennità presso la Cassa, depositi e prestiti così come determinate dalla Corte d'Appello di Salerno AgroInvest e il comune di Scafati si troveranno con ogni probabilità ed ormai in via definitiva di fronte ad un super debito nei confronti dei proprietari dei lotti di terreno ma anche dei loro avvocati rientrati nella designata area PIP si tratta in tutto di una somma complessiva calcolabile in non meno di 15 milioni di euro